se dio era così era un dio socialista testimonianza di giuseppe antonio bruno detto giuseppe detesta nato a demonte frazione cornaletto classe 1892 contadino eravamo padre madre due fratelli e due sorelle un altro fratello era morto quando aveva tre mesi era morto forse di tubercolosi perché le stalle erano malsane avevamo tre giornate di registro di terra a catasto di cui pagavamo l'imposta al governo poi avevamo anche un po di terra comunale in affitto di cui pagavamo il dovuto al comune avevamo anche un po di terra all'arbre due le vacche nella stalla e dieci capre e dieci pecore quasi tutte le trenta famiglie di cornaletto erano come la nostra come vivevamo in famiglia proprio bene mangiavamo la polenta fatta con il gran turco di cremona ci facevamo il pane c'erano tre forni a cornaletto soprano eravamo tutti piccoli proprietari a cornaletto sottano invece c'erano le cascine del conte borelli tre cascine di 25 giornate ciascuna terra buona condotte dai mezzadri il conte borelli aveva altre quattro cascine nella zona e poi era padrone di montagne era forse il più ricco di di monte un altro ricco di monte era il conte l'alza noi mangiavamo tanta polenta e cavalè polenta e toma grassa e patate e tagliatelle al latte la budria era la minestra di carote patate porri un pugno di lenticchie e tagliatelle mio padre con il latte delle capre delle pecore e delle mucche faceva i formaggi da vendere tutte le settimane portava in piazza due ceste di tome tome di latte misto buone vendevamo 30 chili di toma alla settimana erano 30 lire negli anni dal 1900 al 1910 in quei tempi un manuale guadagnava due lire al giorno di paga mio padre non aveva fatto le scuole ma sapeva leggere e scrivere aveva imparato da un contadino che sapeva a chi gli diceva ma perché non affitti i tuoi figli lui rispondeva affittando i miei figli mando via la forza la mando ad arricchire gli altri il vino costava cinque lire alla brenta un po di vino in casa lo bevevamo coltivavamo le lenticchie c'erano delle coste che non valevano una lira terreni magri solo buoni da pecore e da capre era là che venivano le lenticchie migliori mio padre le lenticchie belle le portava ai negozi di demonte le cambiava con il riso un quintale di lenticchie scelte valeva un quintale e mezzo di riso mio padre quando seminava le lenticchie diceva sempre che seminava il riso le bestie erano la ricchezza della nostra famiglia all'autunno mio padre vendeva le bestie grasse pecore e capre a 7 8 lire cada una le bestie con i denti guasti valevano solo 5 lire venivano i francesi a comprare e volevano solo bestie sane compravano capre pecore castrato guardavano il dente delle bestie e contrattavano ricordo ancora i francesi sul mercato avevano una calza piena di marenghi ogni autunno dovevamo regolarci di tenere soltanto le bestie in base al fieno disponibile a comprare del fieno non si trovava che aveva sbagliati i conti e restava senza fieno era poi costretto a svenderle le bestie il fieno era oro posso dire che non ho mai fatto della fame mio padre aveva delle idee non stava nella miseria trafficava prendeva sempre qualche iniziativa la fame la faceva chi era troppo attaccata ai soldi chi voleva risparmiare a tutti i costi ma i figli di questi contadini troppo ingordi troppo avari non appena erano adulti andavano via di casa andavano a cercarsi un lavoro sotto gli altri oppure migravano in francia o in america il 5 settembre del 1912 sono andato a piacenza a fare il soldato nel ventunesimo artiglieria da campagna per me era come andare a lavorare sotto un padrone mi sembrava di fare niente in confronto a casa poi è scoppiata la guerra del 15 c'era qualcuno che cantava eravamo in tanti ci facevamo coraggio io pensavo per essere un buon guerrigliero non devo farmi uccidere sapevo che il nemico era arrabbiato e che se fosse venuto in casa nostra saremmo diventati i suoi schiavi sono stato sotto l'altissimo poi sul monte plava poi a campomulo e sul carso a doberdò e nel pallone rosso quando è venuta la ritirata del carso sono arrivato fino al piave io avevo due cavalli da salvare argira il cavallo del mio padrone del tenente izzo e torasia il mio cavallo il tenente izzo mi aveva detto guarda bruno devi fuggire porta in salvo il mio cavallo nella ritirata ne ho viste di tutti i colori la strada era un formicaio c'erano quattro colonne degli sbandati a piedi delle carrette delle trattrici delle parti un po inquadrati e dei cavalli sono anche svenuto durante la ritirata ho perduto il mio cavallo ma argira l'ho portato al di là del piave l'ho consegnato al mio tenente nel 1919 sono tornato a casa in congedo c'erano le elezioni al comune c'era la propaganda c'era un comizio sulla piazza di demonte mi pareva che il socialista parlasse meglio degli altri perché cercava di aiutare il piccolo con pochi compagni ho fondato la sezione socialista alle elezioni il socialista è rimasto in minoranza perché il popolo non capiva ma siamo riusciti eletti quattro i contadini avevano paura dei socialisti dicevano che era l'anarchia avevamo i preti contro i preti mentre dicevano messa facevano propaganda noi invece eravamo costretti a fare la propaganda di nascosto passando ogni sera di casa in casa i nostri nemici ci criticavano dicevano di noi si riuniscono a complottare sono pochi che cosa credono di combinare niente abbiamo cominciato in una ventina e man mano che uscivamo con delle ragioni giuste il partito aumentava il prete dal pulpito diceva ma voi socialisti credete o non credete che esiste dio noi non potevamo rispondergli perché rispettavamo la chiesa ma capivamo che il prete usava un modo prepotente di fare la propaganda politica noi eravamo cristiani ma dicevamo la politica è una cosa e la religione è un'altra perché dio è salito sul monte sinai e ha detto al basso popolo fuggite da lì dove vi fanno lavorare sotto il bastone dove vi fanno trascinare l'aratro e poi loro mangiano il pane e voi mangiate solo miserie se dio era così era un dio socialista che voleva una società giusta nuova e non dei ricchi era un dio che diceva venite con me sulla montagna che non sarete più sfruttati che non sarete più schiacciati noi non eravamo contro la religione noi dicevamo ai preti ci credete voi in dio o fingete di crederci per dominare il basso popolo poi è venuto il fascismo e allora abbiamo visto i picchetti armati in chiesa i soldati armati che presentavano le armi all'elevazione noi avevamo creato una cooperativa di genere alimentari vestiario e altre cose i negozianti gli albergatori hanno incominciato a dire noi paghiamo le imposte e voi ci danneggiate noi vendevamo senza lucro ci bastava pagare le spese la nostra merce costava metà prezzo la nostra cooperativa aveva la sede nel palazzo del comune nel 1925 26 i fascisti hanno minacciato di bruciarla come avevano fatto a torino in toscana e da altre parti i commercianti ridevano io ero ancora consigliere comunale e il nostro sindaco il conte borelli ci ha detto bisogna chiudere altrimenti ve la bruciano la cooperativa così abbiamo svenduto tutto ho dovuto stare vent'anni in silenzio fingendo di non essere contro il fascismo eravamo schiavi prigionieri come topi in trappola quasi tutti i contadini non capivano niente del fascismo quando poi nel 1943 è incominciata la lotta partigiana i contadini dicevano i partigiani sono contro di noi ci prendono il vitello e io a spiegare che i partigiani a volte erano costretti a requisire il vitello dovevano vivere non vivevano di aria io tenevo per i partigiani dicevo che avevano ragione io li aiutavo i partigiani uno dei miei figli guido nel 1921 era disperso in russia con gli alpini era ammalato prima di partire per la russia aveva fatto le febbre maltesi io gli avevo detto marca visita e farai il sedentario ma lui si era lasciato convincere dai compagni io avevo fatto quattro anni di guerra io sapevo al cinematografo avevamo visto assieme la ritirata di napoleone guido pensava che quello spettacolo non fosse vero che fosse solo per divertimento io invece sapevo che era storia vera erano tanti giovani che vinti dalla propaganda partivano per la russia come per andare a nozze che cosa penso della montagna di oggi io sapevo che lei sarebbe venuto a interrogarmi e allora ho scritto questo programma improvvisato per aiutare la montagna leggo le prime righe incomincia così non si deve premiare chi lavora nella grande proprietà redditizia indebolendo lo stato ma si deve premiare chi è capace di lavorare nel rustico senza chiedere niente allo stato allevando famiglie forti e robuste perché ancora nutrite di vegetali e carni naturali come dio diede alla natura certe politiche guidate dai socialisti italiani per rafforzare il governo a favore dei piccoli contadini non sono state ascoltate finora da nessun governo perché i piccoli hanno bisogno di lavorare oggi per mangiare domani mentre i grandi accumulano la roba nei magazzini e la lasciano piuttosto marcire prima di darla fuori a buon prezzo sui mercati e Grazie.